Ehi, vieni, oh ciao ragazzi, ciao piccapsim99, piccapsim99, ti piacciono i polaretici, silenzio, volevo dire, ma sei, ma sei, non apparirai in tutti i fumetti e in tutte le settimane rocker dacchi con Mizzio Paperoni. Paolo Paoli New, iscriviti al canale, mettete mi piace, non mi piace, condividete e commentate. Ehi, vieni, oh ciao. Ciao a tutti amici! Ciao a tutti amici! Noi adoriamo le Beribis, vero? Ma non è un fumetto per le Beribis, ok? A me, a noi, a noi piacciamo questo cartone animato. Esattamente, e oggi abbiamo un ospite, mi sei Polaretto? Saluta! Ciao, ciao a tutti e ciao anche piccapsim99, piccapsim99. Volevo dirti, piccapsim99, piccapsim99, guarda tutte le due parti dei fumetti di Topolino, grazie. Lo so, lo so, lo so, lo so, vai, 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 vai. Va bene, e oggi recensiremo Topolino 3411. Topolino 3411. E? E oggi recensiremo Topolino 3411 con... Qui gol! Wow, 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 wow. Wow, va bene, apriamo subito. Va bene, prima la sorpresa. Wow, 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 che bello, ci sono un picco qua. Guarda qua, guarda qui, guarda qui. Guarda qui, gol. Non l'apriamo. Lo so che non dobbiamo aprirlo, guarda che carino. Qui gol, limite dei vision. Bellissimo, bellissimo. E salutiamo... Oh, ciao. Che cosa ci fatti qui? Con neanche il resto della banda. Ciao qui. Ciao. Mister Polaretto. Ciao. Topolino. Oh, ciao ragazzi. Sio Paperone. Ciao a tutti. Ciao. Sio Paperone. E' questo Giacomo che abbiamo sconfitto. The Rocker Dog. Sì, quello. Paperina è. Sio Paperone. Ciao. Ciao. E' Paperoga. Ciao a tutti. Ci sono nella storia o nel corto? Lo scoprirete strada facendo, ragazzi. E io, allora, vi presento. Io sono Mozzi, lui Lucky Buck e lui... e... e... chatonari. E benvenuti nell'accademia di... Topolino Academy Comics. E oggi recensiremo Topolino 341. La sto leggendo. Sì, aspetta. Qui Gord. Cinque euro e novanta. Costa cinque euro e novanta? Solo se con Topolino arrivano le statuette. Esclusive. Limited edition d'oro. Oro. Oro. Edizione speciale. Non perdere le... altre uscite. Collezionale tutte. Oggi, allora, io... io farò la recensione di questo. Mozzi Quo... e... ecco... e... come ti chiami? Chatua? Qua. Va bene, va bene. Sarei tu a recensire. Quando c'è il simbolo 60 panini è inutile registrare. Esatto. Quo Gord lo puoi trovare prossima settimana di Topolino con lo skateboard 3412 dal 14 aprile. E qua Gord con Topolino 3413 dal 21 aprile. Dove c'è... qua? Con... beh... quello che è... con... Già. E noi abbiamo trovato qui? Con il pallone da calcio. Esatto. Hai, hai. Tu, metti. Ho la copertina. Allora, copertina numero 3411. Disegni di Francesco Di Polito e colori di Mario Petrotta. Andrea Cagò! No, è andato, è andato. Oggi non c'è. Oggi non c'è a piangere. E questa copertina è bellissima, Francesco Di Polito e un'anno petrotta. Lo sai? Bellissima! Apriamone subito. Allora abbiamo... Sì, lo sapevamo. I Mistara che c'è. La pubblicità di Topolino, Lisa Jovinca... E ne 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 ne. E già. Poi abbiamo anche... la banda Bassotti di Che Ariatira a Paperopoli con una settimana di Silvia Finchè. Ragazzi, non vorreste per una volta darvi un motivo Per essere orgoglioso di voi No Vorremmo che tu Fossi orgoglioso di noi Così senza mochile E poi abbiamo Aless Bertagni Fai colazione Oh ciao amici Cosa c'è? Tu non mi hai salutato Ciao Aless Bertagni E ciao Sì sì Allora poi c'è la pubblicità Di deposito di Sio Paperone Sì e poi ci sono E poi c'è la mia redazione Io faccio la colazione Ehi Saluta Salutiamo Picassi99 Picassi99 prima Soprattutto Blade 2 Lo so Allora abbiamo Storia Argomenti E servizi E rubriche Uperadi I Mareskin Quello che ha vinto Wow I vincitori Oggi abbiamo Tutti protagonisti A partire I Mareskin Tutti argono Arrivati Oh, questi sono Mi sa, Romolo Pietro Bisermero, sei un coglione Poi abbiamo La banda Bassotti E il furto quasi perfetto Prima puntata Soggetto e sceneggiatura di Silvia Zinche Che parla di Zio Paperone Che è sempre Oh, Battista Ehi, esatto Oh, Bassotti Ma ci sarà, lo so, lo so Che parla di Zio Paperone, io che Oh, signore Battista Adesso ti chiedi E dov'è la banda Bassotti No, sì, ecco la banda Bassotti Che Che lei Questa bellissima Finanzata di 176, 176 E questo tizio Che era Alle scuole di Archimede Quello che era un inventore Ma adesso un più E innamorato Tutti i Bassotti Sono innamorati Di questa bellissima Bellissima Nuovo personaggio Di Topolino Di Paperino Questa bellissima Wow Forte La bambina Con la bionda Nuovo personaggio Della vecchiotta Silvia Zinke Poi abbiamo Big Girl Pover Porca 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 Madonna Porca Madonna Porca Madonna Porca Madonna Bellissimo C'è anche Dei cartoni animati Ma Bagger Ma Bass Poi Abbiamo La pubblicità Di Pick Up Che non avevo Necessito di Lasciamo perdere La storia Di Pick Up Creatura di Vito Stabile Disegni di Marco E Stefano Rotta I fratellini Che Parla di Zio Paperone Ehi Ehi Giovanotto Parlo io Che parla di Zio Paperone Che La banda Bassotti E il mio Aledio E guardate E beh La banda Bassotti La Beh Senza limusino Non puoi fare Niente Rocker Duck Rocker Duck Guarda Ci sei tu Contento? Eeeh Insomma Perché Sono apparsi Solo In una Pignetta? F Anticipaglia Eri E' Antica Qualcosa Non Qualcosa Non va Rocker Duck Visto Ci sei tu Wow Ma non Mi interessa Hai vinto Ma dai Ma dai Io sono apparsa Una volta Tu Tu Coglione Sei passata Una volta Poi abbiamo Marvel Qui Marvel Sipeio Avente Il nuovo canale Di tu Dedicato a Marvel E' L'agenda Sicuramente Topolino 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 Come i vanno a piri Tu sei tanto piccoli Topolino Topolino Ecco Topolino Tra famiglia Tutti noi Si scurpe Piri Ehi Perciò Noi Inghili Sì Da Topolino Solo tu Topolino Vai capir Topolino